Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal, il vostro imperatore E bentornati finalmente in un nuovissimo video della ModCraft Nello scorso episodio siamo riusciti ad ottenere un'altra spada leggendaria Ovvero la Star's Edge Che è molto più potente della mia vecchia spada Perché come vedete fa 10,8 di danno per colpo Mentre questa faceva 16 di danno Però è veloce il doppio Infatti a 2 di velocità d'attacco questa invece è 0,8 Quindi è come se facesse praticamente 20 di danno E devo dire che non è assolutamente male Ovviamente però dovremo prima incantarla Se non altro fin quando non riusciamo a trovare la spada ultra leggendaria Ovvero la Sunfire Sono riuscito ad ottenere degli altri tablet runici E inoltre mi avete detto che questo cuore del Warden Serve per aprire il portale del Warden Ma ragazzi seriamente dobbiamo testarlo Dobbiamo testarlo assolutamente però lo mettono lo zainetto Perché come ben sentite è un cuore vivo e quindi batte E si sente in continuazione il tutun Tutun Oh aspetto di fuoco 3 Ma scusa non pensavo neanche che esistesse di livello 2 Perché di livello 3? Vabbè proviamo a incantarla E mi è uscito life mending E certo E quando mai Per fortuna siamo pienissimi stavolta di cordicelle e di schegge di prismarino Ok era al contrario il crafting me l'ho dimenticato Così lo possiamo togliere senza problemi Quindi 1 e 2 Togliamo sto life mending incredibilmente inutile E indistruttibilità Aspetto di fuoco critical hit Ma sai che è tutto sommato Fammi vedere un attimo critical hit cosa fa Ti permette di fare dei critici anche senza saltare Beh 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 Allora è molto vanilla come spada Perché non ci sono altri incantesimi particolari Però io c'ho già una filatezza 4 che gli posso inserire E da qualche parte avevo filatezza 5 Ma mi sa che l'ho utilizzato per qualcosa Non mi ricordo Tutto sommato ragazzi non fa schifo eh È una buona spada con dei buoni incantesimi Ma forse ho un'idea migliore Se io adesso mi crafto un'altra spada E mi escono degli altri incantesimi OP Change freezing indistruttibilità No Poi posso utilizzare il tomb of scrapping Così mi prendo quelli migliori Rampaging Guarding strike Illager's bane E friends No Eh se metto Illager's bane Poi non posso mettere affilatezza Quindi no Grazie Particolare sta cosa Che in una spada in diamante Ti escono tutti incantesimi strani E qua ti escono gli incantesimi vanilla Eh shockwave Comb cutter Enervation No grazie Tanto i livelli ragazzi lì ho Cioè ho più livelli che lapislazzuli Eh santo cielo Affilatezza 5 però E anche lama sferzante 4 Allora 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 Aspetta dove ce l'ho Ecco qua C'abbiamo il tomb of scrapping normale Oppure c'abbiamo quello anche superior Vediamo quali di questi incantesimi mi escono via Eh paint cycle Refreshment E lama sferzante Eh Allora paint cycle in realtà è un incantesimo che non voglio Perché c'è scritto che ogni volta che attacchi Accumuli del dolore E appena arrivi a 5 stack di dolore farai più danno Però per accumulare quel dolore Ti viene tolta la vita Quindi no grazie Disincantiamo la spada E speriamo che esca qualcos'altro di migliore Una finitezza 5 mi basta e mi avanza eh No niente Ok va bene Continuiamo così Dai Dai Perché gli incantesimi sono così tanto complicati in questa mod Soulbound però Saccheggio Lama sferzante Scavenger exploding Sono tutti perfetti tranne exploding Aspetta Magari se usiamo il tomb of scrapping Exploding non esce E invece esce porca miseria No raga erano tutti quanti top Tranne per exploding Che come ben sapete fa delle esplosioni ogni tot colpi Skulk smite 6 Enervation Cos'è Enervation? Rubi il calore dei nemici quando attacchi Ok Vabbè Diciamo che sono tutti incantesimi che questa spada già c'ha Ovviamente come ben sapete stiamo cercando di ottenere più attacco possibile Perché prima o poi dobbiamo riuscire a battere il folle Nikon Che nonostante la mia armatura Fino ad ora è l'unico boss che è riuscito a uccidermi È forte È veramente tanto forte Se non avete visto quell'episodio guardatelo Fidatevi E vabbè C'è tutti Sono usciti tutti Stunning poison Anima conduit Freezing E smiting La sfammi vedere un attimo Ok fa danno AOE Quindi in un raggio d'azione Poi c'è Freezing Rallenta gli avversari e gli da mining fatigue Beh sono tutti dei begli incantesimi in realtà Vediamo anima conduit Eh Ogni orb ed esperienza ti dà un po' di vita in più Questi non sono male In più ci abbiamo anche stunning e poisoning Che quindi possono avvelenare i miei nemici E li possono anche bloccare Questo forse ragazzi vale la pena utilizzare il Tom of Superior Scrapping Che mi costa 60 livelli Ma va bene E vediamo adesso quanti ne possono entrare qua dentro Anzi prima Vabbè ho sbagliato Volevo metterci prima affilatezza Comunque raga posso dire Indistruttibilità 5 Aspetto di fuoco 3 Colpi critici 2 Anima conduit 4 Stunning 4 Poisoning 4 Affilatezza 4 13.3 di danno Non è assolutamente male È un'ottima spada Ora non sono così tanto presuntuoso da pensare di poter già battere il Fallen Icon con questa Perché come vi dicevo La famosissima spada ultra leggendaria ovvero la Sunfire Ha un'abilità OP Infatti a quanto pare spawna un banner che si posiziona per terra Che infligge 3 di danno ogni secondo Quindi non solo io lo attacco con la mia arma Ma in più riceve anche altri 3 di danno ogni volta Quindi quella spada la dobbiamo trovare prima o poi Adesso vorrei provare a renderla mitica La galena ce l'abbiamo I tablet runici pure non sono tantissimi Però insomma provare non costa nulla no? O meglio costa però mi costano i tablet runici Ok rara 11,95 Ricordiamoci che prima faceva 13 di danno Ora fa 11 Quindi dobbiamo cercare di non accontentarci Ok ok epica 12,4 da epica è veramente tanto Dai bro non mi puoi uscire solo rara E io sto utilizzando un casino di tablet Ti prego Ma stai scherzando No si è buggata palese Oh ok Di nuovo 13,3 Però come vedete gli altri bonus sono 30% durabilità E 2% fortuna Non mi servono assolutamente a nulla No vabbè raga C'è sto avendo una sfortuna assurda Ok quasi quasi la terrei così Per ora Fin quando non troviamo degli altri tablet runici Perché comunque fa 12,4 di danno Che è simile a quello di prima In più c'ha 10% di critici Dai 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 Fin quando non troviamo degli altri tablet runici E soprattutto dell'altra galena Adesso ci rimettiamo gli occhialini Perché dobbiamo andare in esplorazione Ma prima Dove cavolo è il portale del warden? Eccolo qua Ancient city Teletrasportiamoci Perché mi avete detto che Il cuore del warden Questo qua Può accendere il portale Abbandonato Io ragazzi Sinceramente Non lo so Però il commento che me l'ha consigliato Ci aveva più di 120 mi piace Quindi mi auguro che sia vero Allora Aspetta Mi servono dei blocchi per salire Facciamo così E ora voglio testare anche quanto sono forte contro il warden Ok Cosa devo fare? Devo cliccare Oh mio dio Ragazzi Ha funzionato Cioè quindi io posso entrare nella dimensione del warden? Non lo so ragazzi Non lo so Allora aspetta 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 C'ho delle pozioni Senti Prima di far danni Torno un attimo a casa E mi faccio delle altre mele d'oro Sì 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 C'ho l'albero di mele Approfittiamone Non ci posso credere ragazzi Quindi oggi entreremo nella dimensione del warden Io non sapevo neanche che esistesse Ok non vedo l'ora Spero per voi che abbiate già lasciato un mi piace a questo video È d'obbligo Allora Facciamo così No direi che 8 non sono sufficienti Quindi prendiamo degli altri bei blocchi d'oro Vai 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 Crafta crafta Mele su mele su mele Top 20 Perché non si mettono insieme? Non lo capirò mai Sono identiche Eppure non le puoi staccare E si torna adesso Nelle ancient city Con la mia nuova spada tra l'altro Te le porta Ok Sono molto curioso di vedere che cosa ci troviamo là dentro Questo ragazzi vi giuro Non potevo saperlo Se non fosse stato per voi Che me l'avete letto nei commenti Non avrei mai provato ad accendere il portale Ok Entriamo Vediamo dove ci porterà il portale del warden Ok caricamento del terreno Quest completata Uuuu Allora fermi Non perdiamo il portale Quindi qua mettiamo subito Un waypoint Portale Overworld Ok Così sappiamo esattamente come ritornare indietro E questa quindi è una dimensione tutta skulk Siamo ad altezza 96 come vedete Ehi ciao No aspetta Non mi dire che qua posso farmare cose che mi servono Che schifo No raga No 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 A me quelle creature mi fanno schifo Una volta ne ho trovata una in cantina Mi stava venendo da piangere Eeeh Muori 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 Allora come vi dicevo Siamo ad altezza 90 Quindi non siamo in caverna in realtà Siamo in alto Gli alberi Scusa ma il warden Spawna Ci sono delle strutture Ci sono dei drop Ci sono dei mostri nuovi Non lo so C'ho mille domande Oh oh Ok forse era meglio non cadere Ma tanto non mi faccio nulla Ciao Shattered Porca miseria Lui c'ha un botto di vita Ok sono tipo dei mini warden Non mi fanno molto per fortuna Quest completata Uccidino Shattered Ok Ed è pieno di phantom Però la membrana del phantom Io la posso utilizzare soltanto per riparare Le ali Giusto? Le litra Non credo abbia altri utilizzi Wow Qua si scende ancora un bel po' Ah è vero io c'ho un potere particolare qua Che mi permette di sprintare velocemente Grazie alla mia nuova spada Guardate Torno indietro e poi avanti Beh ho capito ma Cosa c'è qua dentro? C'è un minerale? Nuovi minerali? Fammi vedere Ah sono lapis Questo è lapis? Oh 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 Shrieker Ok Ora spunta il big boss Non dovrebbe essere un problema Mamma mia quanto è horror però qua È buissimo adesso Ok Eccolo Dov'è? Bro Guardalo Guardalo Sorvegliante Perché c'è un gioco in italiano? Non lo so Ma muori Ma che pensi di farmi? Guarda che io adesso faccio un botto di male con la mia nuova spada Ti farmo Lo so che non state vedendo nulla ragazzi È buio anche per me Bell Ma che bello fare i colpi critici Ogni tanto parte quel colpino che gli fa molto più danno grazie agli incantesimi nuovi E come vedete è avvelenato, c'ha la nausea e c'ha anche lentezza Visto avvelenamento 4 E mi ha droppato un altro cuore Sì ma io cosa me ne faccio dei cuori Se il portale l'ho già aperto Basta no eh Ora vado via Si ho capito ma è praticamente la dimensione più buia del mondo Come faccio a capire dove andare o cosa fare Se ogni 2x3 spunto un warden Allora voglio vedere una cosa Ci sono delle missioni perché abbiamo sbloccato Ecco la missione di Other Side Uccidi uno stalker C'è una chance rara di spawnarlo dopo che distruggi un vaso antico Ok Uccidi uno shriek worm Trova uno skulk snapper Può essere addomesticato se gli dai un corpetto rinederite Quando è addomesticato ti droppa dei libri incantati Ma che cavolo Boss fight the warden Ah è vero devo prendere le ricompense grazie Questo cos'è? Ah l'enchant vase Ma morite Quindi me l'ha dato lui Ok in teoria se rompo questo vaso antico Potrebbe nascere uno di questi mostri Lo stalker E invece no Ma probabilmente ne possiamo trovare degli altri Quindi probabilmente ci sono delle strutture Che dimensione strana Qua siamo molto in basso Altezza 17 Ma scusa c'è tipo la bed Oh oh Che strano suono Sentite? Oh mio dio Beh c'è anche la pietra oltre alla bedrock normale Aiuto ragazzi Non mi aspettavo la dimensione del warden Ok torniamo su Perché evidentemente qua giù non c'è nulla Eh mi piacerebbe vedere con la mappa se ci sono Wow Ok Ci sono effettivamente dei biomi diversi Dobbiamo andare da questa parte Voglio capire cos'è quel bioma tutto dorato E allora sicuramente ci saranno anche delle strutture Che cos'è sto blocco? Non me lo droppa No un altro warden No Allora voglio vedere quanto sono veloce a ucciderlo Proviamoci una pozione di forza Prendi questo Ok è già avvelenato Guardate quanto danno gli faccio C'ha veleno Nausea lentezza Sto farmando un warden in pochissimi secondi Qua lo uccido prima di un minuto E poi prende dando da solo per colpa del veleno Guarda che tutto sommato quest'arma Eh? Quest'arma gasa Non è male Effettivamente avevate ragione Ho trovato un'arma bella OP Addio warden Ho trovato una bella arma Sì ma io non vedo niente È tutto buio Muori Oh eccolo il bioma dorato Che cos'è? Ecolocation Sto sbloccando un botto di missioni Beh delle side quest Visto che le missioni principali in realtà sono quelle dei boss Ok Boh non credo che ci sia altro Non so le strutture non le sto trovando Questo che cos'è? Un albero? E basta? Sì Guarda nel dubbio provo a salire anche in cima Ma ho come l'impressione che sia come il nether Quindi che praticamente sopra troverò la bedrock Poi non lo so eh Magari sono spawnato in caverna E sopra c'è l'overworld Non ne ho idea Ma ne dubito Eh no infatti questo è bedrock Interessante È tipo una specie di nether quindi Ah Una delle missioni è craftare l'elmo di warden Che però non è sto granché È molto meglio il mio Quindi che lo faccio a fare Allora fammi prendere intanto tutte queste ricompense Che non avevo già preso Affilatezza 5 Perfetto Ecco mi serviva un po' prima Vabbè comunque lo metteremo sicuramente qua Avrei preferito se ci fossero state anche delle strutture con delle chest Perché magari in questo modo riuscivamo a prendere degli altri tablet runici Va bene anche così È stata un'esplorazione interessante Beh qua sicuramente farmi un bel po' eh Se utilizzi la spada da farming Guarda 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 i livelli Guarda i livelli come salgono Guardate un po' Boom 125 126 126 126 Ancora E sto blocco Oh fa male È tipo un cactus Gloomy cactus Wow 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 Ma che cavolo Ok non credo che ci sia altro sinceramente da esplorare A parte questi tre biomi No Torniamo al portale Ok Figo Buono sapersi Peccato però che non ci abbiamo trovato nulla Ora in realtà Qua ci sono ancora delle chest Il problema è che Stenchant City è nata all'interno di un altro bioma E quindi ha buggato un po' tutto Però a me servono i tablet runici E come ben sapete si trovano nelle chest Quindi magari abbiamo un po' di fortuna Tablet no Ok niente di che Rigenerazione la prendo però Vediamo se ci sono delle altre chest qua Yes Mi servono solo tablet runici E già che ci siamo Se riuscissi a trovare anche la spada Per forgiare la spada ultraleggendaria Non sarebbe male Visto che comunque si trova nelle chest Dai che voglio battere il boss Voglio battere quello stupido cavaliere Che si crede più forte di me Ecco un'altra chest Libro con passo felpato 3 Ce l'ho io passo felpato? Due E allora prendiamolo Tutto il resto è inutile Altra chest Uh ok Però niente di utile Aspetta questa però c'ha mending Me la prendo Così utilizzo il tom of scrapping E poi metto mending nella spada Altra chestolina Niente di utile Oh tablet runico Passo felpato 3 Icebreaker food reserves No A posto così Credo di averle luttate tutte No c'è un'altra Vieni qua da me Anello che mi dà salute massima Più 2 Io al momento quale c'ho? Quello che mi dà danni per colpo 20% No molto meglio questo Ok Credo di averla luttata tutta Sì Torniamo a casa Mi tolgo sti cuori dall'inventario Perché continuano a pulsare Via anche tutto quello che non mi serve Io questa non so che cosa cavolo sia Ah la lanci Qualsiasi cosa fosse Non ce ne dobbiamo più preoccupare Allora adesso prendo Passo felpato Affilatezza E iniziamo a incantare Quindi Piedini con Passo felpato 3 Perché non posso Ah perché sono già al massimo? Strano Dovrebbe permettermi di incantarlo Va bene Mettiamo allora affilatezza 5 Nella spada Così fa 12,9 d'attacco Anziché 12,4 E mi piacerebbe avere degli altri tablet runici E dell'altra galena Per trasformarla in mitica Perché ancora non è uscita mitica Neanche una volta Quasi quasi Torno indietro Dove vivevo prima di trasferirmi Qua c'è la caverna arcobaleno ad esempio Perché qui trovavo molti più tablet runici Ci sono sicuramente tantissimi dungeon E tantissime strutture inesplorati Perché se vi ricordate all'inizio ero molto debole E quindi se vedevo qualcosa di strano Diciamo che non c'entravo Adesso che sono incredibilmente OP E mi mangio praticamente i boss Forse è anche arrivato il momento Di tornare un po' indietro nei propri passi Per esplorare tutte quelle nuove zone Allora facciamo così Vai avanti Dov'era la mia vecchia casa? No la mia vecchia casa era qua tipo Sì 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 era dritto da questa parte Oddio un gufo Non l'avevo mai visto fino ad ora Ma che bello Che figata Allora questo dovrebbe essere il bioma In cui scendevo in caverna Se non mi ricordo male Perché mi ricordo di tutti questi fiorellini Ecco Qua c'era la mia farm di pillager Che a questo punto ricontrollerei Perché magari in qualche cesto Ho lasciato appunto Qualche spada O i tablet runici Ricordatevi che io Non conoscevo ancora La modcraft Quando mi trovavo qui Era tutto nuovo Ok no sono tutte cesti inutili Andiamo verso casa O meglio Verso la vecchia casa Che bello Così ripercorriamo i miei passi Ecco Adesso Mi farebbero comodo Le elitra Mi sa che siamo arrivati ragazzi Riconosco la collina Riconosco la candara zucchero Oh la mia vecchia dimora Interamente bruciata Dai miei incantesimi Le ceste non le controllo Perché le avevo già controllate in passato Non c'è nulla di utile Che mi può servire Oddio Sapete dove potrei andare? Però era molto lontano Nel castello di ghiaccio Se vi ricordate Lì c'era il boss Che non sono riuscito a battere Perché ero ancora troppo debole Eh sì Ma ora dove cavolo era? Qua la mappa Non si sta neanche caricando Cioè se volessi vedere Dove si trovava È tutto nero Era sicuramente vicino alla neve Cioè era in mezzo alla neve in realtà Proviamo ad andare qua Uh mi piacerebbe affrontarlo adesso Spero di trovarlo ragazzi Non è detto Ma spero tanto di trovarlo Perché ai tempi mi aveva spaccato in due Non riuscivo proprio a batterlo Ma ora me lo mangio Oh tra l'altro Avrei bisogno anche del miele Per farmi le ali Quindi magari ricordiamoci Che qua ci sono delle api Se non mi ricordo male Era vicino ad altre strutture Ce n'erano tipo tre Eh anche perché se riuscisse a batterlo Potrei luttare la sua struttura E magari all'interno trovo degli altri tablet unici Oh 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 Ok Era qua? Forse siamo vicini raga Totalmente a caso Ma forse siamo vicini Intanto io sto villaggio Lo esplorerei comunque Sembra interessante Mi stanno attaccando Ciao Muori Oh ceste Ok Già che ci sono delle ceste così in bella vista Promette bene No però non era qui Oh Ok Niente di utile Tablet ne avete? No Però c'è un outpost interessante Muori 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 Wey Che nascondete qua? Niente Ok devo fare attenzione Perché mi stanno congelando E quando mi congelano Mi rallenta Anzi mi bloccano proprio Mannaggia Questa non ci voleva Allora fammi esplorare Un attimino sto outpost dei pillager Vai Ah ma si è generato a metà È mezzo rotto Eh ci sono le ceste Sì ok Uh Katana No peccato Speravo di trovarci qualcosa di meglio Ok Direi che è arrivato il momento di andare Non era questo il dungeon E mi stanno rallentando tutti Oh però questo Fermi tutti No Ok Aspè 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 Dai Togliti da qua Allora Non è quello che stavo cercando Però non è male anche questo Qua ci trovi totem E secondo me Ci posso trovare anche i tablet Ci sono già stato Ok Quindi sono nella strada giusta Chiamo vonga Ciao Muori Muori Questo è il dungeon Dei mini boss Tutti quei mostri Che hanno 60 di vita E beh Quindi siamo effettivamente vicini Bottigliette di expo Le prendo Ciao piccoletti Ok Qua ho sicuramente lasciato delle ceste Ciao creeper Quindi Ne vale sicuramente la pena controllare Questa l'avevo già presa Sì 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 Diamo un'occhiata Uè Non mi fai più paura Un tempo sì Tantissimo Eh no Avevo già esplorato quasi tutto Uffa Non credo di riuscire a trovare delle ceste Non prese No Però siamo molto vicini Era qua da qualche parte il castello di ghiaccio Eh dove però Proseguiamo Raga con un po' di fortuna potrei fare veramente jackpot Oddio quanto è soddisfacente da rompere il ghiaccio Cos'è quella? Oh santo cielo No grazie Io vado via Se non vi dispiace Muori Ok Un'altra torre Ma poche ceste Niente di utile Qua su in cima Oh ok Qua c'è un bel bottino Cos'è questo? Mappa mondo Ma veramente Artigli la talpa Aumenta la velocità base in cui scavi la pietra Ok Beh non mi serve Sembra tipo una nave pirata Ok Continuiamo da quella parte Oh aspetta Forse è qua Non è questo però Oh Oh Fammi uscire No 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 Mica muoio Se ti immagini 40 cuori e muoio per la neve No 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 Figurati Eh però mi ha dato un bel po' di malus Maledetto Allora dicevo il posto non è questo Però non mi dispiace che stiamo trovando così tanti dungeon e così tante strutture Peccato però che siano molto sfortunate Che c'è qua su in cima? Un bel bottino Eh a lei Ciao vi libero io Maledetti pillager che vi incastrano sempre qua Vai siete liberi Vanno su Cosa mi volete dire? Cosa c'è qua su? Cesto Sì ma a me servono i tablet unici Un'altra torre Con degli spawner di Che cavolo è sto coso? È un silverfish blu? Oh mio dio che schifo No 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 Guarda sono finito proprio nel posto sbagliato Scusate me ne vado Non ci credo ragazzi Era molto più vicino a casa mia Di quel che pensassi Perché ero convinto che fosse dall'altra parte? Eccoci arrivati ragazzi Qui deve essere pieno di chest Ci sono praticamente tre dungeon attaccati Cioè se non li trovo qui i tablet unici Sono la persona più sfortunata del pianeta terra Ma vattene Allora Io proverei ad entrare immediatamente Nel castello di ghiaccio Per vedere se riusciamo a battere il boss Che non era lui Perché era molto 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 più forte C'è anche la bestia intrappolata Questi mi hanno copiato nell'imperocraft Oh 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 Mannaggia ogni volta In realtà non so se questo è il castello giusto Però giudicare dal fatto che le chest sono luttate Direi di sì Ok e in cima tecnicamente ci dovrebbe essere il boss Fammi già subito mangiare una mela d'oro E hanno i due Forse proprio su 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 Ehi bro Non c'è No Dov'è? È perché io mi ricordo di averlo allontanato Però in teoria dovrebbe tornare nel suo castello no? Ammazziamo loro Magari uccidendo i suoi scagnozzi torna Addio! Allora io l'avevo allontanato Perché volevo cercare di ucciderlo con la lava E l'avevo portato in fondo qua da qualche parte Però scusa non dovrebbe ritornare al suo punto di partenza? Mica è rimasto qua Eh sì vedete che ci sono tipo i suoi attacchi? Tutte ste frecce di ghiaccio me le aveva lanciate contro E dov'è? Si nasconde? Ora che sa che sono forte? Certo Mi sembra ovvio E lui? Oh oh E lui? No non è lui No Non era lui Non può essere Oh sì Ma figurati l'ho ucciso con tre colpi Non era lui Eh non me lo ricordo ragazzi È passato troppo tempo Però effettivamente era diverso dagli altri Eccolo È lui Ne sono sicuro Sì Eccolo Vai vediamo come te la cavi adesso contro di me Eh il suo problema è che rigenera un botto la vita Però Ah è vero mi ghiacciava Però adesso non so se può rigenerare Visto che io ho l'incantesimo di veleno Quindi lui ogni tot secondi prende danno per via del veleno Guardate a sinistra vedete tutti quanti i suoi effetti Resistenza Forza Nausea Rigenerazione Oh è una bestia È tossissimo Velocità No no bro Mi spiace ma non hai scampo Sono diventato troppo forte E l'abbiamo battuto Mi ha droppato la sua bacchetta magica Ok Volevo semplicemente batterlo Per vedere quanto sono diventato più forte E se vi ricordate Una decina di episodi fa Non riuscivamo neanche a portarlo a metà vita Utilizzando la lava Incastrandolo Niente Era impossibile ucciderlo E adesso l'ho ucciso in pochi secondi Senza neanche utilizzare una pozione Bene 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 Questo è progresso Significa che sono effettivamente diventato molto più potente E adesso posso effettivamente esplorare questo dungeon Visto che la scorsa volta non ci siamo entrati per via del boss che mi dava fastidio Dai fammi entrare Ciao Dove nascondete le ceste? Tu Dammi il totem Vai ragazzi Mentre io esploro il dungeon Vi invito a lasciare un mi piace Come avete ben visto Sono diventato veramente molto forte Ma sarò abbastanza forte da battere il fallen icon Chi lo sa Dal vostro imperatore è tutto E voi mi avete rotto le scatole Adesso mi ammazzo tutti quanti Vi ammazzo Via Via Piazza pulita Via ho detto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao